In realtà io non lo so se vale la pena tornare a leggere Dylan Dog o no, questa è una cosa assolutamente personale. Sono certo però, e questo me lo conferma anche Miele qua fuori che abbaia, che questa operazione alla Baraldi sta funzionando, quantomeno con me, perché? Beh, perché è un'operazione nostalgia, ma fatta bene, la spiego meglio fra poco. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd, venite più vicino, ma che parliamo un po' di st'operazione nostalgia della Baraldi e di Bonelli messi insieme, che come vi ho già detto, per una volta quando tutti tirano il carro dallo stesso lato, magari qualcosa si smuove. Si sta smuovendo, si sta smuovendo in modo positivo, in modo negativo, in modo neutro, questo me lo dovete dire voi. Certo è che dieci anni di curatela recchioni hanno polarizzato parecchio le opinioni e quindi continuo ad avere dei commenti, appunto anche di persone mai sentite, mai viste, soprattutto da quelle di tutti i tipi, soprattutto preconcette. E la cosa a me infastidisce parecchio, perché, raga, prima si legge e poi si critica. E la critica, intesa in senso positivo, negativo, nel senso la critica del fumetto, del testo, della storia, deve essere una cosa non preconcetta, non prevenuta. E questo è importante un po' per tutto. Ma in questo caso, quando c'è di mezzo la passione, perché essere preconcetti? Perché togliersi il piacere di una lettura che potrebbe essere interessante soltanto perché... Eh no, questo è, questo è. E quindi, e quindi ci buttiamo subito dentro a questo video, no spoiler, perché i video spoiler, poi casomai li riprendiamo più in là, adesso non mi va di farli, non mi va proprio di farli. Azzel, la morta, il numero 447, che è la seconda di un trittico di storie che non sono strettamente legate fra di loro, sono leggibili tranquillamente in modo verticale, cioè in modo singolo, da sole, senza problemi, ma sono collegate per il tema che trasporta appunto le tre, che ti porta a leggere le tre. Il tema è quello della tecnologia. Soprattutto il tema dell'intelligenza artificiale. Anche in questo secondo volume, in questa seconda parte di questo trittico di storie, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, sarà parte importantissima, fondamentale, dell'avventura di Dylan. Azzel, la morta, senza fare spoiler, è difficile parlarne, però ci proveremo. Poi alla fine ci diciamo anche per quale motivo per me è un'operazione nostalgia. Allora, partiamo subito da una cosa, che ve la devo far vedere bella, bella, grande. Allora, partiamo subito dal fatto che, vabbè, c'è Dylan Dogg, Batman è morto in 16 noni in libreria, ma questo già ne abbiamo parlato nei video di Lucca. La copertina dei Cestaro è, come al solito, qualcosa di bello, di bello, perché i Cestaro riescono ad avere un cipiglio moderno, ma una mano classica. Non so come abbiano trovato questa quadra, ovviamente, è il loro mestiere, quindi bravi loro che l'hanno fatto, ma sono riusciti a trovare una quadra molto, molto interessante, che non fare impiangere altri copertinisti. Sinceramente, i Cestaro stanno veramente lavorando molto, molto bene, nonostante, nonostante, a differenza di tanti altri copertinisti, si stiano muovendo attraverso le mareggiate, perché è successo di tutto per i Cestaro. Dobbiamo dire anche questo. Partono dall'old boy, poi vengono spostati, poi si cambia curatore, poi anche no. Cioè, è successo di tutto, e loro, sempre lì, precisi, con le loro copertine, bravi, bravi Cestaro. Veramente. Valore aggiunto, valore aggiunto a questo ritorno al classico di Dylan. La storia del mese prossimo, vedi ancora di più i Cestaro in grande spolvero, è un po', ops, no, ho sbagliato io, è un po' sgranata, ma... No, ho sbagliato lo zoom, scusate. È un po' sgranata, ma vale la pena di vederla. Il problema è che... Ok, c'è abbastanza risoluzione nel mouse. L'ultima storia di questo tritto, con Anatomia dell'anima. Anche questa qua, una copertina molto, molto bella, sembra al 9000, ovviamente, no? Questo oblò rosso che sembra il riflesso di quello di al 9000 di 2001 di sé nello spazio. Quindi, anche qui, riportato agli anni 80, il giradischi, il televisore vintage, lo stereo, quello da grezzo, il telefono con la rotellina, 20... Cioè, tutti elementi molto, molto vecchi. Anatomia dell'anima è questo braccio forte sopra, e anche il logo di Dilan Dog in questo azzurrino. Cioè, un sicario dalla inaudita ferocia, che miete vittime nelle strade di Londra. Per fermarlo, Dilan deve tracciare un'anatomia dell'anima. 30 dicembre, vedremo anche questo. Invece, invece, quello che stiamo per leggere, vabbè, in edicola c'è ancora il Dilan Dog con il Fest, ma ne abbiamo già parlato, trovate il video, appunto, sul canale. Invece, invece, in questa storia il soggetto è di Rita Porretto, Silvia Mericore e Barbara Baraldi. Anche la curatrice ha partecipato, appunto, al soggetto della storia, mentre la sceneggiatura soltanto della Porretto, porretto, scusa, Rita e dell'Americore. I disegni di Antonio Marinetti, che ha il suo esordio. Raga, che cavolo di esordio pazzesco, pazzesco, ragazzi, veramente un esordio incredibile. Belli, 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 belli. Partiamo, appunto, ve lo ridico, dal frontespizio, disegnato a Cestaro Bross, voluto dalla nuova curatrice Barbara Baraldi. Frontespizio, veramente bello, che non fa rimpiangere quello di Sclavi e nemmeno quello... Uh! Vabbè, non fa rimpiangere quello di Sclavi, quello di un'altra cosa, ma non ne sono sicuro, quindi non va a dico. Andiamo avanti. C'è un ricordo, ovviamente, allo scomparso Carlo Ambrosini, ricordo al quale, appunto, anche io mi unisco, sinceramente, ne ho parlato sul canale quando, appunto, è arrivata la notizia, quindi vi lascio, appunto, a quel video, che è sicuramente più interessante. Azzella Morta, disegni di Marinetti, appunto, e già dall'inizio vediamo quello che ci aspetta. Vediamo una griglia diversa, vediamo delle inquadrature, delle vignette diverse, vediamo proprio un stile, già dalla prima pagina, che è particolare. Marinetti veramente mi ha entusiasmato. Le stesse onomatopee, credo che le abbia messe lui, perché sono praticamente disegnate, sono incredibili all'interno di questa storia. Bella, bella, bella. Già dalla prima, guardate proprio la vignetta sotto al titolo, no? È veramente inquietante, è ultra classica, inquietante. L'occhio con il riflesso, bella. Seconda vignetta. Che vedevo di... Cioè, è... Bravo, bravo. Veramente mi è piaciuta tanto, l'ho letta al campetto. Guardate, sta quasi splash page. Che bello. Si ritorna anche a un più spiccato senso della rappresentazione della vita. Nel senso, non ci si ferma a mostrare immagini di nudo, sia maschile che femminile. E la cosa è, per me, importante. Non perché sia un... Un feticcio. Ma perché è una rappresentazione più vera di quello che succede, in realtà, nella vita, no? Anche nella sospensione dell'incredulità. È una cosa molto, molto interessante. Guardate i disegni. Siamo a tavola... A pagina 9. Questa è tipo la quarta tavola. Bella. Ha fatto un lavoro veramente meraviglioso. Marinetti, guardate che Dylan. Diverso. Non è il volto del classico Dylan. Però, raga, è veramente interessante. Guardate qua che bel Dylan. No, è veramente, veramente interessante. Guardate quanto è più alto. Bello. Già l'ho detto troppe volte. Se è capito che mi ha entusiasmato. Vi volevo far vedere una cosa, però. Senza scoperti... Ah, no. Quella è subito dopo. A un certo punto, per il flashback, utilizza un'altra tecnica. Che è un po' quella del disegno, che sembra carboncino, ma con lechine ben definite. E anche lì. Guardate che belli. Molto, molto belli. Sembra carboncino sfumato questo qui, no? Colorato con questo tipo di grigi. Molto, molto interessante. Devo dire che è molto bello. E qui c'è il primo problema. Allora, questa storia è una storia particolarmente strana. In questo caso io non capisco questa cosa qui. Proprio non la capisco. C'è un salto temporale che non ho capito. Probabilmente Barbara Baraldi, oppure la Porretto e l'Americore mi potranno dire. Allora, proprio nei primissimi tavoli. Classico, classicissimo. Arriva, sta ragazza in qualche modo. Ha un problema paranormale, strano, un incubo. Dylan la porta a casa, in ufficio. Stanno parlando. Lei inizia a raccontare. Finisce il racconto. E stanno a casa in la tipa. Ora, io capisco che praticamente lì sarà successo che a un certo punto gli ha detto ti accompagni a casa o una cosa e già. Però è strano. Ti fa strano. Quando lo vedi ti fa... Cioè, neanche a scriverlo. E questo qua o è un... Fra uno che te, errore. Oppure è un nuovo modo di intendere la scrittura dilaniata. Non più così... Diciamo... Non più così... Pedisse qua, all'interno delle spiegazioni di quello che sta succedendo. Non come text, ovviamente lì. Cioè, non plus ultra. Ma non così tanto, appunto, attenta a darti tutti quanti gli elementi, ma ogni tanto qualche cosa te lo fa immaginare. Questa cosa qua la vorrei capire. Se e perché è stato concepito in questo modo. Perché io l'ho letto, sono dovuto tornare indietro e ho detto, ma mo perché siamo... Non l'ho capito immediatamente. Al netto, al netto che è veramente un... Un gran bel disegno. Per quanto riguarda la storia. Non vado avanti perché già voi non fate vedere troppe tavole. Per quanto riguarda la storia. La storia è una storia classica di Dilan. C'è un incubo. C'è un interrogativo su quest'incubo. C'è un Dilan scettico. Che cerca tutte le spiegazioni plausibili. Prima di pensare a non plausibile. C'è un Dilan che però è proattivo. Nel senso, è molto investigatore. In questo caso. E c'è una quantità di orrore. Di splatter. Di... Di crudezza. Nella stessa storia. Che non risparmia i protagonisti. In nessun caso. Molto molto interessante. E c'è anche un'attualità all'interno di questo racconto. Che vede... Ehm... Come protagonisti principali. Gli incubi. Di un gruppo di ragazzi. Che poi sono i segreti. Che non vogliono mostrare. Che poi però... Per colpa di una filastrocca mortale. Di Azzella morta. Una strega. Vengono scoperchiati. Un... Un enigma. Quasi quello... Ehm... Sapete... Non mi ricordo il film qual era. Quello della videocassetta. Che quando la vedi. E poi muori. Ehm... Una cosa simile. Una rivisitazione di quel tema. Cioè. Un racconto. Che mi so goduto. Francamente. Ho letto in modo molto veloce. Perché volevo capire come andava a finire. Che mi ha dato un impatto grafico. Importante. E che... Ehm... Valeva la pena veramente di essere letto. Sono contento. Non resterà il capolavoro della vita. Ma non voleva essere questo. Voleva essere una bella storia da ricordare. Di Dylan. Una di quelle storie che durante l'arco dell'anno dice. Quella lì è una delle storie che... Più me... Ormai siamo a novembre. Se può dire no? Ce ne manca solo una. La parte finale. Quella lì è quella che un po' più... A proposito. A dicembre ovviamente faremo. Tutte le considerazioni su Dylan Dog. Su... Le storie. Prima dell'ultima. Perché... L'ultima non si può fare. Esce il 30 dicembre. A me... Me la manderanno. Se mi va bene il 29. Quindi non potrei mai fare tutte le considerazioni. Che è quello. Lasciamo l'ultima. E facciamo un po' di considerazione. Questo anno di Dylan. Dannatamente importante nella sua continuity. Proprio fisica. Vera. Di dirigenza. Dylan Iata. Comunque. Tornando a noi. Perché? E torniamo alla prima pagina. Perché ho parlato di operazione nostalgia? Però in senso positivo. Ragazzi perché è evidente che questo Dylan come è stato come incepito, come lo stanno portando avanti, come la Baraldi lo sta puntellando, è un Dylan che vuole assolutamente mostrarsi classico, mostrarsi quello che abbiamo sempre amato. Il Dylan che hai sempre amato. Perché così è. Ma all'interno di nuovi incubi, che poi alla fine gli incubi sono sempre gli stessi, cambiano gli strumenti per viverli questi incubi, all'interno di questi nuovi incubi, fatti di tecnologia, fatti di un mondo nuovo, fatti di nuove paure, nuove paure che vanno a incardinarsi all'interno della vita quotidiana di ognuno di noi. In questo caso abbiamo questo trittico sull'intelligenza artificiale, ma sotto ci sono sempre gli stessi sentimenti umani. La vergogna, il voler spiccare in tutti i modi all'interno di un gruppo di persone più o meno ampio, ci sono il risentimento, ci sono tutti quanti quei forti sentimenti umani che Dylan analizza da sempre. E la Baraldi in questi due numeri ci ha fatto vedere come lo vuol portare avanti. Quindi con copertine che ti danno comunque quel sentore di classico, con un disegno che ti dà quel sentore di classico, con delle storie che hanno un gusto strettamente classico, ma con un cipiglio, c'è la volontà forte, quasi in maniera altezzosa, il cipiglio proprio, di volerle innovare in modo diverso. Io credo che questo numero possa essere tranquillamente letto da chiunque, anche da ragazzini, e lo possano trovare estremamente godibile e interessante, per via delle tavole, per via delle inquadrature, per via di testi e di balloon che sono scorrevoli e non ci sono spiegoni su spiegoni, si legge tutto tranquillamente, per via anche, per via anche, ovviamente, di un certo fanservice, perché, raga, i fumetti sono pieni di fanservice e quelli che fanno più vendita sono quelli che ce n'hanno di più. Solitamente funziona così, tranne alcuni capolavori, ma veramente, sulle dita di una mano posso contare i capolavori che senza fanservice sono riusciti, appunto ad arrivare a un grandissimo pubblico. Quello è necessario nel fumetto, ma anche perché, raga, ricordiamoci, il fumetto è un'arte che porta innanzitutto allo svago, allo svago. Il fumetto non cambia il mondo, noi dobbiamo cambiare il mondo, non il fumetto, però questo è un altro discorso. Quindi, dico io, buona. Buona pure la seconda, e la seconda era più complicata, perché la seconda è più complicata. Vedremo la terza, vedremo la terza. Certo è che, ripeto, la nuova curatrice ha veramente messo, sta veramente puntellando tutto quanto. In questo discorso rimane, però, rimane però, una macchia, che è quella del pianeta dei morti. Rimane sta macchia del pianeta dei morti. Io non posso immaginare il fatto che la casa editrice non ci dica chiaramente, chiaramente, che cosa succederà alla serie dei cartonati del pianeta dei morti e alla serie del pianeta dei morti in generale. Non posso tollerarlo, perché è un... Ce lo disse Bonelli un po' di tempo fa. Davide Bonelli. Facciamo un patto tra amici. E mai l'avesse fatta quell'editoriale, perché è veramente compromettente. E sto patto da amici, io lo sto rispettando. Però, Bonelli, quando non è per una giusta causa, cioè un problema proprio di concorrenza con le altre aziende, quindi non mi dici quanti ne vendi, e che poi me ne freghi, io mi li leggo, mi interessa quanti ne vendi. Quando non è un problema di non spoilerare qualche evento importante, quindi, ok, stiamo organizzando un evento mega galattico su quella cosa là, non te lo posso dire in anticipo, quindi non... Quando arriva avrai la sorpresa. Ma quando si tratta di una serie in corso, che io non so se andrà avanti o meno, e quindi non so se la potrò concludere... Beh no, quello me lo devi dire. Non si può dire a dare da destinarsi. Quindi quella rimane veramente l'unica macchia pesantella di questo inizio di curatela. E purtroppo la Baraldi se la deve mettere in croce, perché è lei il curatore. E come altri curatori prima di lei si sono stati messi in croce per altre cose. Io purtroppo finché non avrò la certezza, non dico una data, ma quantomeno un anno in cui si riprenda le... Ma non allo sviluppo, perché tanto lo sappiamo che Bilotta ce li ha tutti in testa, i prossimi cinque numeri del pianeta dei morti. Non lo sviluppo. La stampa e la distribuzione del prossimo pianeta dei morti, io continuerò, continuerò a battere su questa cosa. Perché il patto tra amici di Davide Bonelli con i lettori va rispettato da entrambe le parti. Detto questo, andate a prendere sto Dylan e mi fate sapere. Ciao belli.